Ciao a tutti e bentornati a una nuova pillola di storia. In realtà intanto buon Natale, perché se non è successo il finimondo questa pillola dovrebbe uscire a Natale ed è un pochettino il mio regalo, un pacchettato alla belle meglio, per quelli che seguono da più tempo le pillole, che sono ovviamente appassionati della nostra lucronia, sono appassionati di Orbis, perché oggi andiamo avanti a raccontare questa nostra storia alternativa. Di cosa sarebbe successo se l'impero romano d'Occidente fosse sopravvissuto? In questa storia alternativa nel mondo di Orbis, che abbiamo raccontato in una marea di puntate, le trovate in descrizione, che è approfondita dalle pillole di Orbis, trovate in descrizione anche quelle, che è approfondita nella wiki, ringrazio sempre tantissimi ragazzi per il lavoro che fanno, anche quelli trovati in descrizione, tra l'altro sulla wiki trovate approfondimenti sui sovrani, sugli stati, le bandiere degli stati, che qualcuno mi ha chiesto le trovate tutti sulla wiki, ebbene, questo mondo che tutti insieme stiamo creando è arrivato al 1805. L'impero romano, Roma, diciamo così, perché ormai non è neanche più un impero, una repubblica, tra poco lo vedremo, è sopravvissuto alle invasioni barbariche, è sopravvissuto al Medioevo, è sopravvissuto agli arabi, è sopravvissuto all'umanesimo, al Rinascimento, alle esplorazioni, colonizzazioni, 1600-1700, e ora, forse, sopravviverà ad un uomo che ha preso in mano il destino di Roma, un uomo che è arrivato dalla Corsica, un uomo che tra poco vedrete, nella bellissima sigla fatta da Giulio, che io adoro questa sigla, un uomo che si chiama Napoleone. Buona parte! Ah, è Natale per tutti! Anche per i cartografi, perché come potete vedere, alle mie spalle sto utilizzando la mappa vecchia, che non è aggiornata, ma è indietro di una puntata, ma la utilizzerò, e va bene, è uguale perché i cambiamenti sono minimi, per cercare di raccontarvi un po' cosa è successo in quest'ultima puntata. La differenza principale rispetto alla mappa che potete vedere è ovviamente il fatto che non c'è più una divisione tra la Repubblica Romana, governata da Napoleone, o meglio dal Senato, e con Napoleone in testa, e l'Impero, invece, governato dall'ultimo dei Borgia Antonini, cioè Romolo Augustolo. Infatti, Napoleone è riuscito a sconfiggere Romolo Augustolo, a reinglobare, dopo aver sconfitto la Normandia, a quei territori che vedete bardati, glue e rossi, ma soprattutto a reinglobare l'intera Iberia, costringendo Romolo Augustolo e i suoi figli a fuggire lontano fino a Nova Terra. Poi dopo ne parleremo. Napoleone, rimasto padrone di Roma, era riuscito anche ad accentrare in su di sé maggior potere. Come vi ho raccontato nella scorsa puntata, infatti, dopo essere stato a lungo prima uno dei consoli della Repubblica, poi essere nominato dittatore, alla fine, dopo aver sconfitto Romolo Augustolo e aver reinglobato anche l'Iberia all'interno della Repubblica, ne era stato nominato Princeps, a capo proprio della Repubblica. Quello che era stato creato, a differenza della nostra timeline, però non è un'evoluzione così incomprensibile per i politici senatoriali, perché in realtà molti di quei senatori che siedono attualmente in Senato, quelli che facevano parte durante la rivoluzione delle fazioni meno rivoluzionari, se così vogliamo dire, quelle più moderate, avevano fin da subito spinto non per una vera e propria Repubblica, quanto per una forma di impero mediato, di impero, potremmo dire, quasi costituzionale, in cui l'imperatore fosse costretto a piegarsi per le sue decisioni anche alla volontà del Senato. A tutti gli effetti Napoleone è riuscito a creare una situazione del genere, in cui lui ora è a capo formalmente della Repubblica, ma lo fa in accordo proprio con il Senato. Questo gli ha permesso di avere una base abbastanza stabile di potere, gli ha permesso di avere molti uomini nel Senato che approvano questo cambiamento ed gli ha permesso di mettere in disparte quella parte maggiormente rivoluzionaria, cioè in particolare gli alpini, che in realtà avevano già perso molto potere, che invece avversa questa evoluzione, perché vorrebbe che la Repubblica Romana rimanesse una Repubblica a tutti gli effetti. Grazie a questa base di potere, tra la fine del 1805 e l'inizio del 1806, Napoleone crea una riforma dell'organizzazione amministrativa della Repubblica. Lo scopo è evidente. Lo scopo è cercare di accentrare su di sé e su Roma maggior potere in modo da permettere un miglior controllo del territorio che si può tradurre in più denaro, ma soprattutto più truppe da ruolare nelle legioni. Due cose di cui il nuovo principe ha molto bisogno, perché sa benissimo che l'Europa prima o poi tornerà ad interessarsi alla Repubblica, o meglio, non ha mai smesso di farlo. Per questo, anche sfruttando i vantaggi di cui tra poco vi parlerò, Napoleone cerca di portare a termine quel tentativo di accentramento che molti imperatori, prima di lui, avevano cercato di fare, peraltro molto spesso finendo male, e che anche i Borgia Antonini avevano fatto con i loro primi esponenti, ma che poi era progressivamente passato in sordina, perché gli ultimi imperatori avevano preferito accordare una serie di privilegi ad alcuni dei loro fedeli, che avevano creato delle piccole basi di potere nelle proprie province, nella propria zona, in cambio nella fedeltà. Napoleone, però, ha un grosso vantaggio rispetto ai suoi predecessori. Prima la rivoluzione, poi lo scontro, appunto, con l'imperatore Romulo Augustolo, hanno a tutti gli effetti tagliato letteralmente in due quella che una volta era l'intelligenza, quella che una volta era, potremmo dire, l'aristocrazia imperiale, l'aristocrazia senatoriale, la quale ha perso molti esponenti, ma soprattutto molto potere. In questo modo, Napoleone si trova a controllare direttamente vaste zone di territorio, che un tempo erano controllate dai Borgia Antonini o erano controllate dai loro fedeli, che sono, tra l'altro, molti scappati a loro volta a Nuova Terra. Grazie a delle requisizioni, grazie al fatto di essersi impossessato di questi territori, Napoleone ha una grossa base di potere che può letteralmente spartire col Senato in cambio di un appoggio. La riforma, che prende atto nel febbraio del 1806, divide nuovamente la Repubblica in province, ed esattamente come era stato un po' ai tempi di Augusto, a cui Napoleone cerca sempre più di assomigliare, anche nei ritratti, nel modo in cui si fa rappresentare, ebbene, questa rappresenta la nuova organizzazione della Repubblica, ricalca proprio molto quella di Augusto, con delle nuove province che vengono create, alcune con dei governatori di nomina senatoriale, altre invece con dei governatori, o meglio dei prefetti, di nomina direttamente imperiale. Sì, del principe, imperiale forse un po' impreciso. Questa situazione di equilibrio, almeno nella prima parte, sembra tenere, e permette a Napoleone, da una parte, di presentarsi come comunque primus inter paresse all'interno del Senato, dall'altra di mantenere uno stretto controllo sui punti più importanti del paese, perché ovviamente i suoi prefetti controllano le province più ricche, più potenti, e strategicamente più importanti. Come detto, Napoleone sa benissimo che avrà bisogno ben presto di truppe e di denaro. Il primo sogno ovviamente era quello di cercare di varcare il mare, inseguire Romolo Augustolo e portare a termine la sua vendetta contro i Borgiantolini, o meglio portare a termine la riconquista di quello che rimane dell'impero, cioè le colonie in Nuova Terra. Questo tentativo in realtà viene ben presto frustrato, perché nell'aprile del 1806 una parte della flotta imperiale, guidata da un inglese, Orazio Nelson, un mercenario che si è messo a servizio dei Borgiantolini, penetra all'interno del porto di Calice e qui brucia gran parte della flotta che Napoleone stava iniziando lentamente ad assemblare con l'idea di puntare a Nuova Terra. L'unica cosa che Napoleone riesce a fare proprio per cercare di indebolire i Borgiantolini è finanziare, segretamente, più o meno segretamente, quel grosso movimento di rivolta che sta iniziando a scoppiare nella parte meridionale di Nuova Terra, a Nuova Venezia. Quando infatti il nostro Romolo Augustolo è arrivato in Nuova Terra è stato accolto con grandi onori soprattutto nella parte centrale, cioè quella parte di Nuova Terra che era sempre stata molto legata agli Antonini, che da loro aveva ricevuto potere e che soprattutto vede nell'arrivo dell'imperatore un modo per letteralmente comparire e guadagnare potere sulla mappa mondiale. Chi invece, molto più dal punto di vista pratico, si rende conto che questa situazione vuol dire perdita dal punto di vista economico è invece la parte meridionale di Nuova Terra che ha sempre vissuto di esportazioni verso l'Europa, esportazioni che ora sono bloccate perché ovviamente Napoleone non fa arrivare le merci da Nuova Terra. Insomma, questa situazione già esplosiva lo diventa ancora di più quando iniziano ad arrivare armi e finanziamenti dall'Europa, tanto che tra il 1807 e il 1809 inizia una lunga e sfiancante guerriglia a Nuova Venezia che se non riesce a riconquistare la libertà perché comunque le truppe dei Borgia Antonini riusciranno a mantenere il loro controllo, rende comunque molto, molto instabile la situazione in quello che rimane dell'impero degli Antonini in Nuova Terra. Potremmo chiamarlo impero di Nuova Terra, dovremmo trovare un nome qualora dovesse sopravvivere questa situazione, trovare un nome per questo impero così lontano dall'Europa. Napoleone ovviamente però non è interessato solamente all'aspetto amministrativo, un altro degli aspetti che maggiormente lo interessa è quello diplomatico anche perché lui stesso si è reso conto che alla fine dell'ultima guerra quelli che erano i suoi due principali alleati a parte la Repubblica di Baviera che è a tutti gli effetti uno stato satellite dell'impero cioè le province unite da una parte e la Russia hanno iniziato un pochettino ad allontanarsi. Dei due stati quello maggiormente in rotta proprio con Napoleone è il regno di Russia, il regno dei Rus, il quale nel suo sovrano cioè Alessandro Romanov si è detto fin dall'inizio scontento del risultato dell'ultima guerra che aveva visto la Russia combattere a lungo senza ottenere nessun beneficio. A peggiorare i rapporti che diventeranno a questo punto gelidi tra Alessandro e Napoleone sarà un'alleanza firmata nell'aprile del 1806 un'alleanza che vedrà avvicinarsi come molti di voi hanno scritto la Persia con la Repubblica con Napoleone. È un'alleanza ovviamente in chiave antigreca due stati che hanno pochissimo a che spartire anche perché sapete neanche ai tempi dell'impero i Romani avevano grossi interessi verso Oriente ma che è assolutamente un'alleanza antigreca ma soprattutto contro quell'alleanza che si è formata tra la Grecia, la Bohemia e la Svezia che ha a tutti gli effetti il vero contraltare del potere di Napoleone. Questo però scontenta Alessandro perché? Perché si rende ben presto conto che questa alleanza con la Persia sta diventando sempre più importante per Napoleone e che quindi qualora si dovesse combattere contro la Grecia la Persia e la Russia stessa avrebbero a tutti gli effetti gli stessi interessi cioè il Caucaso che però è uno e o andrà alla Persia o andrà alla Russia. Questo viene visto da Alessandro che peraltro non aveva nascosto negli anni precedenti di avere delle mire di espandere i suoi domini verso sud in quei canati satelliti proprio della Persia viene visto da Alessandro come un tradimento un tradimento di tutto il sangue versato dai russi per Napoleone appunto nell'ultima guerra. I problemi con l'altro alleato invece cioè le Provincie Unite esplodono verso la metà del 1806. Nell'ogno del 1806 infatti quei piccoli staterelli che vedete nella mappa vicino alla Baviera dove nella nostra timeline c'è la Svizzera che sono potremmo dirlo appunto dei cantoni svizzeri autonomi che un tempo facevano parte del regno di Longobardia e che poi hanno mantenuto la loro autonomia grazie al fatto di essere incastonati tra stati più grandi cioè la Baviera la Normandia e appunto l'Impero e ora la Repubblica iniziano invece a spingersi proprio in direzione della Repubblica una serie di rivolte in alcuni di questi cantoni infatti allontano dal potere signori feudali che l'avevano governati per lungo tempo talvolta tra l'altro anche ecclesiastici dei Vescovi che avevano sul controllo su alcuni cantoni e instaurano delle piccole repubbliche rivoluzionari che fin dall'inizio chiedono aiuto a Napoleone Napoleone che non ha intenzione di spingere i domini della Repubblica così a nord delle Alpi decide di proporre a quelle repubbliche di unirsi alla Repubblica di Baviera e così facendo nel settembre del 1806 trasforma la Repubblica bavarese ripeto uno stato satellite del Principato la trasforma nella Repubblica di Longobardia ora questo cambiamento che sembra sulla carta semplicemente di nome ma che è sostanziale cambia il modo in cui quello stato satellite viene visto dagli altri stati Longobardi perché se la Baviera non è più Baviera ma è Longobardia è ovvio che l'interesse a questo punto della Longobardia stessa ma anche di Napoleone potrebbe essere quello di espanderla a tutto quello che un tempo era il Regno Longobardo questo ovviamente non può andare bene a molti non va bene alla Sassonia non va bene alla Prussia ma non va bene ovviamente neanche alle Provinci Unite che proprio con il loro controllo economico e un pochettino anche politico sulla Longobardia sono riuscite a prosperare e a diventare molto ricchi nel marzo del 1807 di fronte al rifiuto di Napoleone ritornare sui suoi passi le Provinci Unite decidono di rompere l'alleanza con la Repubblica e un mese dopo insieme ai loro nuovi alleati cioè alla tripice monarchia dell'Unione di Praga alla Svezia e al Regno di Grecia dichiarano guerra alla Repubblica Napoleone ovviamente era preparato e dopo aver stipulato e confermato meglio il Trattato di Pace con la Normandia la quale questa volta decise di non entrare in guerra potremmo dire che forse aveva preso troppe mazzate nelle guerre precedenti ma a tutti gli effetti il suo sovrano in questo momento non era in grado di offrire una resistenza adeguata alla Repubblica decise di organizzare uno dei suoi soliti piani molto molto aggressivi personalmente prese il grosso dell'armata e con le sue truppe marciò verso nord attraverso la Baviera verso gli altri territori Longobardi l'obiettivo era molto semplice piombare separatamente sulle truppe delle olandesi sulle truppe delle province unite prima e poi quelle dell'Unione di Praga per provarle a sconfiggere singolarmente nel mentre Massena al comando di una parte dell'esercito avrebbe dovuto cercare di rallentare le forze del regno di Grecia e di quelle serbe in Illiria la mossa di Napoleone fu ancora una volta meravigliosa le sue truppe marciarono molto rapidamente verso nord ed entrarono costeggiando il re lo vedete sulla cartina nella Sassonia olandese qui riuscirono a sconfiggere le forze delle province unite che si ritirarono verso i loro territori facendo peraltro distruggere alcune dighe per cercare di rallentare le forze napoleoniche ovviamente poteva essere una trappola se Napoleone avesse concentrato in questa zona le sue truppe sarebbe forse si è riuscito a catturare le province unite ma avrebbe visto tutto il suo esercito pericolosamente lontano dal suo centro di potere Napoleone però in quella trappola non ci cadde dopo aver lasciato una parte delle sue truppe al comando di Giulio Bernadotte fece una diversione verso est entrò nella Sassonia libera quella non occupata ovviamente dall'Olanda che si affrettò ben presto ad alzare bandiera bianca e a farsi occupare e voltò puntando verso la Bohemia le truppe dell'Unione di Praga intanto si erano loro volta divise una parte aveva marciato verso nord unendosi alle truppe prussiane un'altra parte invece era scesa verso sud e attraverso il Norico che era stato invaso senza chiedere assolutamente nulla a nessuno si erano riunite alle forze del regno di Grecia e con quelle minacciavano pericolosamente l'Illiria che Massena con un numero di truppe insufficienti faceva molta fatica a tenere a questo punto Napoleone decise di giocarsi tutto per tutto nonostante la minaccia che proveniva da nord ovviamente dai territori prussiani e dopo aver mandato 40.000 uomini a cercare di tenere lontane quelle truppe da sé puntò a marce forzate verso il cuore dell'Unione di Praga le sue truppe attraversarono la Moravia a una velocità che nessuno poteva aspettarsi le truppe comandate dal generale Mack lo attendevano in posizione di forza ma vennero superate da Napoleone che superò il caposaldo boemo per poi prenderlo alle spalle il generale Mack preso alle spalle sconfitto insieme a 70.000 boemi gran parte dell'esercito boemo peraltro con perdite assolutamente minime pare che si presentò a Napoleone dicendo ecco a voi l'infelice generale Mack questa sconfitta aprì a Napoleone le porte della boemia boemi che furono costretti rapidamente a ritirare le loro truppe verso nord a questo punto il regno di Grecia si trovò da solo e decise al suo volto di giocarsi tutto per tutto insieme alle forze serbe riuscì finalmente a scacciare Massera dall'Illiria ed entrò in Italia passando dal Friuli Napoleone però non gliene diede tempo dopo essere sceso a sua volta da Praga di vittoria in vittoria entrò in Ungheria prese alle spalle anche l'esercito greco che fu costretto a fare una retromarcia abbandonando l'Italia per tornare verso la Serbia e prima che i greci potessero tornare indietro entrò a Belgrado tagliandogli la via di fuga a questo punto Napoleone era esattamente a metà tra l'esercito greco e Costantinopoli avrebbe potuto marciare sulla capitale del suo avversario e in questo modo forse porre fine alla guerra i rischi però erano troppi le sue armate avevano marciato letteralmente per metà dell'Europa occidentale la Normandia era in pace ma avrebbe potuto scendere in guerra non si sapeva cosa avrebbe fatto la Russia e truppe svedesi stavano iniziando ad arrivare attraverso la Danimarca verso la Sassonia inoltre le province unite come faceva sapere Bernadotte non si erano ancora non erano ancora state sconfitte Amsterdam era sotto assedio ma servivano truppe per portarlo a termine e così Napoleone decise di trattare una pace la pace che venne firmata a Praga nel novembre del 1807 fu probabilmente il capolavoro diplomatico di Carlo Maurizio di Benevento il suo obiettivo fin dall'inizio non era tanto quello di ottenere grossa espansione territoriale per la Repubblica quanto quello di trovare un modo per spaccare letteralmente il fronte antinapoleonico per evitare che una nuova grande coalizione potesse crearsi di lì a pochi anni per questo dopo aver blandito alcuni degli avversari in particolare la Grecia a cui era stata promessa una pace bianca tenne un lungo incontro tra Napoleone e Carlo III di Bohemia ovviamente la triplice monarchia era sulla carta lo stato più sconfitto Napoleone era stato a un punto era entrato a Praga abbandonato dalle sue truppe aveva marciato attraverso l'Ungheria aveva sconfitto le forze di Mac eppure quando incontrò Carlo III Napoleone lo salutò come un amico perché proprio la triplice monarchia perché l'Unione di Praga beh perché Carlo Maurizio di Benevento si era reso conto che a differenza del Regno di Grecia che aveva ovviamente interessi di tipo strategico nello scontrarsi contro Napoleone a differenza dell'Olanda che comunque ben presto sarebbe potuta diventare una minaccia e a differenza della Svezia che aveva motivi dinastici cioè la Baviera per scontrarsi contro Napoleone l'Unione di Praga non aveva questi grossi motivi e probabilmente era entrata all'interno dell'alleanza quasi più in funzione antirussa piuttosto che in funzione antinapoleonica per questo alla fine dell'incontro i due si accordarono letteralmente per spartirsi le sfere di influenza Napoleone ottenne infatti l'approvazione da parte della Bohemia per l'annessione della Sassonia alla neonata Repubblica Longobarda ma soprattutto per l'annessione del Norico alla Repubblica Romana quindi al territorio controllato da Napoleone dall'altra parte invece la Bohemia otteneva la possibilità di occupare gran parte della Prussia in particolare tutta la costa della Prussia orientale quasi fino alla città di Berlino inglobandola all'interno dei propri possedimenti sacrificando in questo modo la Prussia che sulla carta se ci pensate era stata un'alleata della Bohemia che veniva però così senza aver perso veramente la guerra ad essere inglobata da un suo vecchio alleato questo accordo permise a tutti gli effetti di dividere in due le sfere di influenze assegnando alla triplice monarchia l'Oriente così come invece a Napoleone l'Occidente ovviamente questo accordo sancì la definitiva spaccatura tra la Russia di Alessandro e Napoleone il quale si sentì definitivamente tradito e da questo momento in poi inizierà ad avvicinarsi alla Grecia ovviamente in funzione antinapoleonica ma anche antipersiana Napoleone all'inizio del 1808 è a tutti gli effetti padrone dell'Europa occidentale le province unite pur non avendo perso dei territori saranno infatti costrette a firmare una pace letteralmente umiliante concedendo una pace una parte della propria flotta a Napoleone e soprattutto concedendo grandi vantaggi commerciali soprattutto nei propri possedimenti e nelle proprie rotte verso l'Oriente a questo punto però Napoleone ha in mente una sola cosa lo sapete l'abbiamo già parlato nella scorsa puntata Napoleone ha in mente di essere colui che un giorno potrebbe restaurare l'impero nell'aprile del 1809 dopo questa pausa a effetto l'ammetto nell'aprile del 1809 Napoleone decide che è tempo di rompere gli indugi il sovrano di Normandia più volte si è schierato contro contro di lui certo nell'ultima guerra ha rispettato il trattato di pace ma ora la Normandia è isolata la Grecia si sta leccando le ferite la Bohemia alleata la Svezia ancora in guerra non ha firmato la pace di Praga ma non ha possibilità di intervenire sul continente le sue truppe hanno abbandonato la Sassonia sono tornate verso nord e stanno ancora cercando alleati insomma la Normandia è sola le truppe di Napoleone attaccano la Normandia nell'aprile del 1809 come una tenaglia un esercito marcia attraverso i Pirinei un altro esercito guidato da Napoleone passa attraverso la Baviera entra nei territori lussemburghesi della Normandia e poi si dirige verso Parigi le truppe normanne poche raccogliticce divise vengono facilmente divisi e Napoleone entra a Parigi una Parigi deserta incredula che non crede ai suoi occhi nel giro di pochi mesi l'intera Normandia è occupata e anche se iniziano a scoppiare qua e là numerosi moti di rivolta Napoleone dichiara che dopo più di un millennio la Gallia così la chiama lui anche se ovviamente nessuno chiaprebbe ancora la Normandia a Gallia la Gallia è ripristinata nell'impero il 21 aprile 1810 natale di Roma ovviamente Napoleone insieme alle sue truppe sfila a Roma attraverso i fori imperiali e accolto da due ali di folla che lo acclamano e lo chiamano in un solo modo restaurator Orbis e lui secondo quella folla colui che ha definitivamente restaurato il potere dell'impero romano e ora in oriente al nord in Olanda in Svezia in Russia in Africa tutti si chiedono cosa sarà quale sarà la prossima mossa di colui che ha riportato l'impero laddove tanti tanti secoli prima era partito Napoleone nel 1810 primo da quando questa storia penso sia iniziata restaura quasi nella sua interezza l'impero romano d'occidente ci siamo arrivati ce n'è voluto di tempo avete chiesto questo finale veramente credo da tanto tanto tempo ovviamente non è il finale della storia c'è ancora tanto da raccontare della storia di Orbis ma sicuramente il 21 aprile 1810 Napoleone è probabilmente l'uomo più importante dai tempi degli antichi imperatori che roba abbia mai conosciuto d'altronde come avete visto passa letteralmente di vittoria in vittoria e ora l'Europa sembra poter essere realmente ai suoi piedi ma lo vedremo vedremo come andrà nelle prossime puntate e ovviamente me lo dovrete dire voi scrivendo qui sotto è stata una lunga puntata è stato un difficile parto spero di essermi riuscito come al solito a concentrare più che sulle battaglie che si sono carine da raccontare ma è ovviamente è un di più più che altro sull'evoluzione dal punto di vista diplomatico e amministrativo che sono le cose che secondo me sono più importanti da capire per capire come evolveranno le cose raccontatemi come va avanti la storia di Napoleone alcuni stanno dicendo ah tanto perderà ci sarà vaterlo come avete visto le cose sono diverse perché diversa ve lo sto dicendo da tempo è molto diversa la situazione in Europa è molto diverso lo stato che Napoleone controlla e potrebbe essere molto diverso il finale ma questo ovviamente lo scriveremo insieme io mi fermo qua come al solito vi dico se non volete perdervi le prossime puntate che ci saranno ovviamente nell'anno nuovo cliccate sulla campanella iscrivetevi al canale e per il resto ricordatevi di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista aveva mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso ci vediamo domenica con Clash of General la seconda e ultima semifinale ci vediamo la prossima settimana con nuove pillole e ci vediamo presto con la prossima puntata di eucronia magari con la mappa nuova a presto ciao ciao ciao